C'è il piano finalmente per la dismissione di quei progetti case o map che non servono più o meglio che sono inagibili e inutilizzati. Se ne è parlato anche in una commissione comunale, nella quale l'assessore alle opere pubbliche Vito Colonna ha illustrato il piano di demolizioni. Via le 12 piastre del piano case che ospiterà nell'area il polo del servizio civile universale, con la demolizione che comincerà a primavera. E poi via una piastra a Bazzano, 5 a Copito 2, ci si sta accordando per alcuni mapp accansatesse inagibili con i Vigili del Fuoco. Entro fine anno si andranno a demolire pure i map di San Gregorio, dei quali si è tanto parlato in questi anni, mentre per alcuni mapp a tempera si dovranno trovare le risorse. Per ora ci sono sul piatto soltanto 80.000 euro e sui fondi sono state abbastanza polemiche le opposizioni. Ieri è stata convocata la quinta commissione presieduta dall'onorevole Stefano Palumpo, su richiesta dei consiglieri Paolo Romanes e Lorenzo Rotellini, proprio per parlare del progetto che abbiamo per dismettere quegli edifici e demolire quegli edifici che non sono più utili alle esigenze della città dell'Aquila. Dovremmo iniziare la prossima primavera con la demolizione di 12 piastre, comprese nel territorio aquilano, più dovremmo iniziare anche lo spero per gennaio e febbraio, anche con la demolizione dei map di San Gregorio e poi procederemo man mano a demolire altri map che ormai non sono più utili per le esigenze del cittadino aquilano.